Grazie a tutti. Ex assessore ai lavori pubblici Antonio Andresano, motore del neocostituito movimento sociopolitico, ancora senza nome e senza collocazione, Andresano ad aprile si era peraltro rimesso in più o meno velata polemica con il PDL, giurando della conclusione della sua breve esperienza politico-amministrativa. Eppure il giovane avvocato ora torna alla carica. In questo particolare e delicato momento in cui da più parti si richiede cambiamento e si invoca rinnovamento, si legge nella nota mattutina, un gruppo di giovani amici ha deciso in un caldo pomeriggio d'estate di fornire il proprio modesto ma allo stesso tempo importante contributo per la crescita e lo sviluppo dell'amata Francavilla. Giovani, non solo anagraficamente ma anche nello spirito, provenienti dalle più diverse esperienze di vita professionale, lavorativa e familiare, si sono uniti in un abbraccio ideale, guidati dallo smisurato amore per la loro terra, ed hanno così deciso di costituire un movimento politico-culturale che si propone in punta di piedi di mettere a disposizione della città tutta le loro proposte in termini di sviluppo, di crescita, di rinnovamento anche culturale, animati dalla freschezza, dall'inesperienza e dall'ardore del coraggio dei 30 anni. Tra i 12 su 13, tra cui spicca anche il nome di Francesco Pepe Milizia, indicato da Comune e Provincia come nuovo presidente dell'ente Fiera dell'Ascensione, la media è di circa 32 anni. Fa eccezione, piuttosto, un altro nome grosso, il tredicesimo uomo in campo, è infatti, sorpresa, Luciano della Corte, fratello dell'ex sindaco Vincenzo, è anche lui indagato per truffa in concorso ai danni del sistema sanitario nazionale, dopo le note vicende rimbalzate tra il prime time di Canale 5 e la procura di Brindisi. Luciano, dopo aver patteggiato la pena e dopo essere tornato al lavoro nel suo studio medico, tenta quindi l'ingresso in politica dopo un tentativo già fallito, seguendo le orme del fratello più grande che, in attesa del giudizio, appare come il deus ex machina dietro questa operazione, che vede in prima fila, però, proprio Andresano, anche avvocato difensore dei due medici. Nel mezzo, molte donne, giovani professioniste. Non è chiaro se tutti i firmatari del documento saranno poi candidati alle prossime amministrative, non è chiara neppure. La collocazione di un'eventuale lista civica. Dal PDL, primo indiziato, giurano di non saperne nulla nel partito azzurro. Piuttosto, sembra essere ormai tramontata l'ipotesi primaria in favore di un candidato sindaco esterno, su cui però vi è il più stretto riservo. Al palo, anche il centro-sinistra, dove il nome di Maurizio Bruno resta nel limbo dei papabili, e il centro di Ferrarese, dove il nome forte, resta quello del coordinatore cittadino e imprenditore Domenico Bianco. Se non certa, appare molto probabile invece la candidatura di Domenico Attanasi, presidente provinciale dell'Aiga e candidato delle liste, almeno due, che ruoteranno intorno al consigliere regionale di Fli e Oprepio Curto. Insomma, panorama frammentato, ma i tempi stringono perché la campagna elettorale è iniziata all'alba.